Siamo a Sochi in un'occasione di festa perché oggi riapre questo spazio meraviglioso che è la chiesa vecchia di Sochi che la Proloco locale ha in tanti anni prima acquisito e poi ristrutturato portando la nuova vita. L'altro motivo di festa è l'inaugurazione di una mostra collettiva che abbiamo allestito proprio qui dentro e che comincia adesso e avrà la sua conclusione il 12 dicembre. Qui ho con me Giovanni Detti della Proloco di Sochi con il quale innanzitutto gli faccio subito i complimenti per il lavoro immenso e veramente bello che hanno saputo fare e poi chiedo due notizie su come gli è venuta questa idea e come l'hanno perseguita fino a questo bel risultato. Oggi diciamo che per la Proloco è una bella giornata, è quasi la realizzazione del nostro sogno. Io mi ricordo quando siamo venuti qui 15 anni e più fa e che camminavamo fra la guana di Piccione, Piccioni Morti, Travia, Ciondoloni, Cielo Aperto. Siamo rimasti, abbiamo avuto due sensazioni, diciamo una di disgusto perché un'opera così bella trovarsi in queste condizioni e poi siamo stati anche lungimiranti perché abbiamo visto, siamo rimasti anche stregati da questo posto, abbiamo visto lontano e abbiamo visto come poteva venire realizzato, l'abbiamo visto 15 anni fa. Bello, è venuto bene. Ricordiamo che questa è un'antichissima, adesso è sconsacrata, ma era l'antica chiesa del paese di Soci, San Nicola. Il primo documento risale addirittura ai primi anni del 1000 e sotto questo pavimento che è un solaio ci sono reperti antichissimi che sono stati tutti selezionati, adesso sono al Museo archeologico di Bibbiena. Il gruppo archeologico di Partina ha eseguito per circa 4 anni gli scavi archeologici e trovando reperti anche abbastanza importanti perché i morti venivano seppelliti con delle medagliette, crocifissi e tutti questi reperti sono stati selezionati, ristrutturati, sono al Museo archeologico di Bibbiena e in seguito, quando noi saremo pronti, verranno poi ridati qui a questo ambiente. Grazie. Passiamo al secondo motivo di festeggiamenti oggi. Ho qui con me la direttrice, l'Art Director di Galleria 360 gradi, che è la galleria con cui l'Associazione Milleforme ha organizzato questa collettiva d'arte, quindi è Matilde Hernández Lorente, che ha portato questi artisti di provenienza di varie parti d'Italia, diciamo, lei ha una sede, la Galleria 360 gradi, ha la sua sede in Spagna, però lavora anche in Italia, diciamo, regge Emilia, Bologna, prevalentemente in Emilia Romagna. Quindi volevo chiedere a Matilde cosa ci hanno portato questi artisti qui oggi a Soci, qual è il senso di questa esposizione? Beh, la mostra si chiama Arte Galleria Artisti, quindi intende riproporre una visione di quello che è l'arte contemporanea oggi. Diciamo che in una chiesa sconsacrata è il luogo adeguato, perché se una chiesa è la casa del popolo, è la casa di tutti, è meglio ancora per rappresentare una realtà. È una realtà che magari a tutti non sarà immediata, non sarà di facile comprensione, perché come vedete ci sono diversi tipi di arte, un'arte che sembra molto più semplice, molto visivo, come quello di Manzoni, che sembra immediato, un Aif però che non ha assolutamente niente di immediato, fotografie, installazioni, sculture, e quindi, insomma, un insieme di quello che è l'arte contemporanea oggi, che deve essere suggestivo e che deve porsi delle domande. Perché hanno fatto queste opere? Queste opere a volte sono semplicemente un punto di partenza della realtà, un'osservazione della realtà e un decontestualizzare i test. Insomma, noi vediamo qua questa installazione di Lele Incerti, nella quale che cosa abbiamo fatto? Ho recuperato delle camicie, delle donne, e che quindi oggi viene rappresentato come una specie di crocifissione, o come una specie di tre marie, le prime che hanno visto Cristo e quelle che l'hanno seguito fino in fondo. Quindi, come la donna, alla fine è quella che fa l'artefice della storia e dell'arte. In modo molto semplice. Grazie Matilde, è sempre affascinante ascoltare le storie, che ce ne sono tante dietro ogni opera di questi artisti. Matilde, Galleria 360 gradi, annovera un bel numero di artisti, che sono in buona parte presenti qui a Soci oggi. Ce ne sono nove, quindi uomini e donne, che spaziano in varie tecniche espressive, come abbiamo detto. Per esempio, la scultura di Davide Scarabelli, che vedo qui alle nostre spalle. Davide Scarabelli è uno scultore che ha già più di 70 anni, quindi è uno sperto in questo campo. lavora da tantissimi anni. Le opere che noi abbiamo qua sono opere piccole, perché chiaramente il trasporto è stato faticoso. Diversamente lui fa delle opere, dei grandi monoliti, cioè sculture ferree, perché lavora con il ferro, dove piega, quindi lavora in un modo molto, diciamo, quasi architettonico. Invece qua noi abbiamo delle opere con le quali lui ha toccato. Il ferro è come se fosse un tessuto. Lo ha piegato, lo ha lavorato, lo ha quasi ricamato. Se tu guardi l'ultima opera, quella delle sfere, sembra proprio un frutto che a un certo momento si apre e sembra tattile. Ti invita a toccarlo. La sfera nella quale si apre potrebbe sembrare un'opera fondamentalmente tecnica, nella quale tu apprezzi la facilità con la quale l'artista attraverso il lavoro con il cannello, perché fondamentalmente lui lavora con il fuoco e con il piegare il materiale, rende tattile quasi un'opera assolutamente dura o un metallo assolutamente duro come è il ferro. Ci sono anche artisti del luogo presenti nell'esposizione? Esatto. Guarda, la mostra nasce come una mostra itinerante che si è sviluppata in diversi luoghi e che in ogni tappa, in ogni luogo dove arriva, tende a coinvolgere la località, perché è giusto anche ospitare artisti del luogo. Quindi in questo caso noi abbiamo aggiunto agli artisti già della galleria a tre artisti nuovi che sono Giovanni Carbone, Rau e Giancarlo Gonnelli, che hanno presentato due fotografie e un pittore con realtà completamente diverse. Insomma, questo serve anche a dire, visto che noi dobbiamo ringraziare le persone che ci hanno ospitato così generosamente, è anche giusto che la mostra si allarghi e faccia partecipi le località. Inoltre la mostra è sempre diversa secondo il luogo che offre degli spazi diversi. Insomma, tu hai già visto la mostra precedente a San Benedetto Po e qui era completamente diversa. Quindi l'arte si piega e si adatta ai luoghi nei quali viene esposto, cioè creando suggestioni completamente diverse. Bene, devo dire che qui è stato un piacere allestire questa esposizione perché il contenitore, cioè l'involucro, questo spazio che oggi ci ospita è veramente prestigioso e le opere risaltano in maniera veramente evidente e diciamo che lo spazio contribuisce a rendercele ancora più belle, se possibile. È venuto a trovarci e noi gli siamo estremamente grati il nostro sindaco Daniele Bernardini al quale cedo volentieri la parola per un ringraziamento e anche per un saluto. Sì, io sono innanzitutto contento dell'invito, mi ha fatto molto piacere essere qua e devo veramente fare, oltre che un saluto, dei grandi complimenti innanzitutto all'associazione Milleforme che è qui rappresentata dalla Sabetta che veramente hanno fatto un bellissimo allestimento in questi locali che probabilmente anche si prestano e da questo punto di vista è veramente una bella occasione per renderli, diciamo, visibili al pubblico. Questa è un'occasione anche per complimentarmi con la locale Proloco perché questo lavoro è frutto della ristrutturazione della Proloco di soci e per questo dovremmo complimentarci perché mettono questi locali a disposizione della collettività e chiaramente anche per l'aiuto che penso abbiano dato all'allestimento di questa mostra che è sicuramente di livello e quindi mi auguro che al di là dei locali appunto sia assolutamente l'oggetto principale della vista dei visitatori siano le opere che qui sono benissimo esposte. La rassegna il 12 di dicembre che è sempre sabato l'orario è sempre quello delle 17.30 con un bel concerto dei Valle Santa Corde.